Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio Proger Index Research di venerdì 28 ottobre 2022. Abbiamo Fratelli d'Italia al 28%, guadagna lo 0,8%, il partito di Giorgia Meloni, il PD perde lo 0,1% ed è al 17,6%, il Movimento 5 Stelle al 16,2%, la Lega sale all'8,5%, in ascesa anche Italia Viva Azione all'8,1%, in calo Forza Italia che si attesta al 6,8%, seguono Europa Verde e Sinistra Italiana al 4,1%, più Europa al 3,2%, Italia Exit al 2,2%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti.